Un dipinto che costituisce anche un'importante testimonianza storica per un affresco perduto realizzato da Andrea Piani e distrutto con i bombardamenti del 1943. Questo è l'oggetto che vogliamo presentarvi nell'approfondimento di oggi. Buongiorno a tutti, sono Valentina di Fine Art by Di Mano in Mano e oggi voglio presentarvi questo dipinto raffigurante l'allegoria dell'Asia. Si tratta di un'opera derivata da un affresco perduto che Andrea Piani realizzò nel 1809 per uno degli ambienti di Palazzo Reale a Milano. La Sala dei Principi poi rinominata anche Sala delle Udienze, infatti prima della distruzione aveva la volta affrescata al centro con un medaglione nel quale erano raffigurati Vulcano e Minerva nell'atto di presentare a Clio lo scudo istoriato. Ai lati invece vi erano le rappresentazioni delle quattro parti del mondo. Oltre alla nostra Asia si trovavano infatti anche Africa, Europa e America. Erano tutte rappresentate come figure femminili, abbigliate e accompagnate da attributi che secondo l'epoca erano caratteristici dei posti che rappresentavano. Come nel nostro caso Asia è rappresentata, adagiata su un triclinio, come una figura molto ricca, come si evince dalle collane di perle e dai coralli abbandonati ai suoi piedi, ma anche caratteristico è certamente l'incensiere. L'incenso infatti era considerato un prodotto tipico dell'Oriente. Questo dipinto è importante anche per la valenza di documento storico. A oggi infatti è considerabile l'unica riproduzione pittorica a noi nota dell'affresco perduto di Appiani. L'affresco infatti c'era già conosciuto attraverso altre modalità, attraverso fotografie storiche dell'epoca antecedenti ovviamente ai bombardamenti, oppure attraverso un disegno di Michele Visi conservato al Museo Pol di Pezzoli di Milano che serviva per derivarne delle incisioni, operazione che però non vide mai la luce.